Buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario del Salone CRS che ha per tema l'innovazione tecnologica e sostenibilità nell'agri-food. Quanto sia importante il settore dell'agri-food lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle perché se anche qualcuno di noi può non avere la macchina tutti dobbiamo mangiare e lo sappiamo dai dati, è un settore che nel 2022 ha prodotto 607 miliardi di fatturato pari al 31,8% del PIL del nostro paese e lo capiamo anche dal fatto che dei 17 obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile ben 12 impattano direttamente su questo settore o meglio questo settore impatta sugli obiettivi. Vi cito l'agenda 2030 perché deve essere il nostro faro, la nostra guida per il futuro. L'agenda 2030 sottoscritta da 193 paesi nel 2015 rappresenta lo strumento di collaborazione degli stati per trovare insieme delle soluzioni ai problemi più urgenti che ha il nostro pianeta, la povertà, i cambiamenti climatici, i disastri ambientali e le emergenze sanitarie solo per fare qualche esempio. L'agenda 2030 ha introdotto due importanti novità, la prima è quella di riconoscere esplicitamente che questo modello di sviluppo non è sostenibile e la seconda è quella di aver introdotto un approccio integrato alle dimensioni dello sviluppo che vuol dire che si è abbandonata effettivamente l'idea che la sostenibilità sia solo una questione ambientale ma che non può essere assolutamente scissa da quelle che sono gli aspetti economici e sociali. Lo slogan dice è l'unico piano che abbiamo per salvare l'unico pianeta che abbiamo e io ci credo. Sapete che l'agenda ha 17 goal, quelli che si chiamano i goal e visto che oggi ci troviamo al salone per la responsabilità sociale delle imprese mi piace ricordare il numero 12. Il numero 12 lo leggo perché è semplice parla di consumo e produzione responsabile. Questo vuol dire che entro il 2030 dovremo raggiungere una gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali, ridurre e dimezzare gli sprechi di cibo lungo tutta la catena dal campo alla tavola quindi nell'industria, nella logistica ma anche nel consumo, rendere ecocompatibile l'uso della chimica e il trattamento dei rifiuti ma ce ne sono due che mi piacciono particolarmente. Una è incoraggiare le imprese soprattutto le aziende di grandi dimensioni e trasnazionali ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche. Oggi avremo degli ospiti importanti rappresentanti di queste imprese di grandi dimensioni e trasnazionali e appunto potremmo anche capire da loro se questo obiettivo lo stiamo raggiungendo. E l'altro è entro il 2030 di fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura. Eccomi io mi auguro che questo nostro seminario attraverso appunto la partecipazione di ospiti importanti che ringraziamo per essere venuti qui con noi, attraverso il racconto delle loro esperienze, attraverso il confronto delle idee possa aiutarci a aumentare questa consapevolezza, la consapevolezza nostra e anche di tutti i cittadini. E attraverso la chiave di lettura che abbiamo voluto dare che è quella dell'innovazione tecnologica che capiremo non è solo robotizzazione, non è solo digitalizzazione ma si può interpretare in tanti modi diversi. L'importante è che siano tutti rivolti a migliorare il benessere delle persone attraverso pratiche produttive rispettose del pianeta e che producano cibo sano e accessibile a tutti. Ecco questo è il mio augurio. Con questo chiudo la mia breve introduzione a questo tema che è un tema grandissimo e che come vedrete tratteremo sotto tanti punti di vista. Vi presento brevissimamente i miei ospiti ma poi ciascuno di loro avrà tre minuti per presentarsi. Li dico in ordine sparso come li ho scritti. Laura Marchelli di Mutti, Malo e Sir Giovanni di Martino Rossi, Gabriele Morgandi di Magilline, Nicola Somenzi di Ferrero, Giancarla Pancione di Save the Children, Alex Giordano ho fatto un po' fatica, ho chiamato Ruralac, va bene, Università degli Studi Federico II di Napoli e Sergio di Pisapia di Barilla. Adesso cominciando magari da Alex e facciamo il giro di qua voi potrete immagino usare questo microfono se si accende. Avete tre minuti per presentarvi voi e le vostre attività. Grazie. Grazie. Sono Alex Giordano come lei diceva insomma difficile da collocare forse in un tema verticale ma forse facile se viviamo il tema così come merita nella complessità in cui è inserito quindi il sistema cibo con tutto quello che non è soltanto gusto purtroppo siamo anche in un momento storico dove quello che prevale la pornografia è del cibo quindi tutto che è questa super esposizione mediatica legata ma neanche tanto al gusto forse alla spettacolarizzazione quindi del cibo. Io insegno all'Università Federico II di Napoli, mi occupo di intelligenza artificiale, sono stato uno che si è occupato di queste cose quando erano robe da sfigate, adesso va di moda insomma, si chiamava cibernetica ai tempi miei negli anni 90, ci prendevano in giro all'università e questo mi ha consentito quindi di lavorare molto nel mondo della trasformazione digitale quindi mi occupo di questo. All'interno del polo tecnologico dell'Università Federico II di Napoli che è uno dei grandi casi di eccellenza anche di rigenerazione urbana europea, quindi sulle ceneri della Cirio tra l'altro nasce questo polo tecnologico che ospita oltre ai grandi prairesi internazionali come l'Apple Academy, Cisco, Deloitte e tante di queste realtà, 54 laboratori di grande eccellenza su robotica, intelligenza artificiale e quant'altro. All'interno c'è un laboratorio particolare che è trasversale a questi 54 che si occupa della trasformazione digitale applicata, quindi di trasferimento tecnologico si dice nel gergo, si chiama Society in Club e uno dei progetti principali è proprio questo Ruralac che si occupa del trasferimento tecnologico nel sistema agroalimentare. Quindi intorno al polo tecnologico c'è tanta enfasi oggi su questo tema che era un tema marginale fino a qualche anno fa, oggi invece ci sono grandi interessi, pensate anche al centro nazionale agritec, noi abbiamo la fortuna di avere la nostra università come capofilia di questo progetto nazionale, ci sono dei nuovi ITS, quindi su questo interesse generale noi ci siamo occupati proprio di questo rapporto, di un rapporto particolare però che ha a che fare con quello che è il reale tessuto socio-economico del nostro paese che è fatto anche da micro imprese, piccole imprese, medie imprese, quindi distribuite sui territori, quindi territori biodiversi non soltanto dal punto di vista ecologico ma anche di biodiversità di stili imprenditoriali e quindi la domanda che noi ci siamo posti è di capire su questo livello di biodiversità e quindi anche sui contesti locali qual era un discorso di innovazione tecnologica e sostenibile nel sistema agri-food, quindi facciamo questo, facciamo un lavoro che noi definiamo di ricerca azione continuo, quindi un lavoro fatto non sulle imprese ma con le imprese, ne abbiamo lavorato ormai sono quasi dieci anni, noi siamo partiti da un progetto fatto con officine Arduino, lavorando da dei kit sull'IoT per l'agricoltura, quindi per rendere sistemi diciamo di intelligenti anche per le piccole imprese, poi abbiamo quelle grandi insomma che qui rappresentate che fanno sistemi molto più complessi di innovazione e poi negli anni abbiamo seguito circa 5-600 progetti di trasformazione digitale per l'impresa agroalimentare, abbiamo lavorato molto con anche decisori sul piano delle politiche, quindi abbiamo scritto uno dei primi rapporti ministeriali sulla blockchain in agricoltura, questo nel 2015 sostanzialmente e poi lavoriamo giorno per giorno su questo, quindi diciamo mi farebbe piacere portare, condividere con voi un punto di vista artigiano, cioè da chi è un po' nelle cose, quindi sono a vostra disposizione su questo fronte. Io mi presento solamente, sono Giancarlo Avancione, direttrice marketing e fundraising di Save the Children, ma diciamo sono qui con Nicola Somenzi che come Ferrero ci ha un po' ospitato, poi racconteremo del nostro progetto, quindi lascio i tre minuti a Nicola. Gentilissima, buongiorno a tutti, Nicola Somenzi di Ferrero, Ferrero non credo che abbia bisogno di introduzione in Italia, invece è un po' meno noto quello che Ferrero fa sulla filiera agroalimentare in tutto il mondo, ovviamente stiamo parlando di un'azienda che ha filiere in tutto il mondo e io dirigo il Dipartimento di Responsible Sourcing che vuol dire semplicemente approvvigionamenti sostenibili e la filosofia sottostante al modo in cui lavoriamo è questo, è qual è il modo di integrare la sostenibilità nei processi aziendali, perché se non integriamo nei processi aziendali sostenibilità parliamo di progetti, parliamo di progettualità, magari molto belle, che scriviamo in un CSR, rimangono nel CSR, dopo due anni sono archiviate, quindi il nostro approccio fin dall'inizio è come trasformiamo questa idea e come la facciamo diventare parte del nostro modo di fare business. Poi ne parleremo più diffusamente dopo, vedrete che avremo diversi angoli, un angolo è quello dell'innovazione tecnologica, un altro angolo è quello dell'innovazione e delle nostre collaborazioni. Quindi cerchiamo di arrivare a questo fine attraverso diverse prospettive. Buongiorno, io sono Laura Marchelli, sono responsabile della sostenibilità in Mutti, do qualche numero su Mutti che immagino conosciate, Mutti è un'azienda di trasformazione del pomodoro, lavoriamo 100% pomodoro italiano, una filiera tracciata e lavoriamo all'anno circa 600.000-700.000 tonnellate di pomodoro, quindi siamo comunque un'azienda leader di mercato in Italia e in Europa, insomma qualche numero che vi dà una misura e una dimensione dell'azienda, ma quello che ci tengo a dire per presentarla è darvi tre elementi valoriali di Mutti, quindi un po' alla base di quello che è il modo di fare impresa dell'azienda che sono sicuramente la qualità del prodotto, quindi la scelta di un prodotto, di un pomodoro con un estremo livello di qualità e qui si innesca diciamo già il tema della filiera, del rapporto con la parte agricola, della partnership perché per ottenere una materia prima così come la si vuole è necessario comunque instaurare delle reti di collaborazione visto che siamo un'azienda di trasformazione che non possiede i campi, quindi non coltiva direttamente il pomodoro. Il secondo elemento è la propensione all'innovazione, innovazione di processo, innovazione di prodotto, quando parlo di innovazione di processo citiamo solitamente l'Instafactory che è proprio una fabbrica mobile che viene posizionata direttamente sul campo dell'agricoltore e lavora in diretta al pomodoro, quindi la passata sul campo che trovate al supermercato è una passata che viene prodotta sul momento, quindi azzirando le distanze tra l'agricoltore e la parte di trasformazione industriale. Innovazione di prodotto, un esempio il ragù alamotti, un ragù con ingredienti 100% vegetali, davvero molto buono, assaggiatelo, che va quindi nella direzione che l'azienda ha sposato parecchi anni fa di non usare né carne né pesce nella propria ricettazione. E infine il terzo elemento che ci tengo a darvi come presentazione dell'azienda è sicuramente il tema della sostenibilità, inteso come elemento che racchiude un po' tutti gli aspetti valoriali che già l'azienda da quando è nata ha essenti suoi e come diceva il collega Di Ferrero il tentativo è proprio quello di rendere la sostenibilità parte integrante dei processi aziendali, in ciascuna funzione dell'azienda la sostenibilità deve diventare un driver decisionale quindi in qualche modo spingere ad un'innovazione che ricerchi la sostenibilità. Grazie Laura, Manuelsi Giovanni, direttore generale di Martino Rossi. Qui ovviamente voi non conoscete Martino Rossi quindi dovrò spiegarvi un po' chi siamo. Fondamentalmente siamo oggi l'azienda leader, un'azienda leader italiana nata negli anni 50 nella fornitura di farine, ingredienti, semilavorati, prodotti totalmente da filiera italiana, senza allergeni, senza glutine, soia OGM, agricoltura naturale, biologica e convenzionale. Di fatto oggi siamo dietro i principali marchi alimentari italiani, quindi forniamo circa l'80% dell'industria alimentare italiana e molti marchi europei, quindi voi siete già i nostri consumatori, quindi questa è una cosa buona e ci caratterizziamo dal fatto di avere una filiera totalmente integrata. Anche noi come Mutti non abbiamo i campi di nostra proprietà però noi facciamo filiera dal 92. Cosa significa? Noi siamo l'azienda che al di là della programmazione iniziale a Monte forniamo i sementi agli agricoltori, quindi vendiamo i sementi tramite la scelta varietale botanica, andiamo a seguire tutte le fasi di raccolta tramite capitolati nostri, gestiamo tutto ciò che riguarda i trattamenti in campo, la trebbiatura e il raccolto perché è fondamentale quando si parla di salute delle persone allergeni, ricordatevi sempre che l'allergene non si evita in stabilimento ma si evita in campo, quindi far sì che le trebbie non abbiano raccolto del grano o della soia il giorno prima o la settimana prima è fondamentale, questo di fatto ci porta ad avere quasi lo zero assoluto che non si può dichiarare per legge ma dichiariamo sotto il 5 VPM e sviluppare tutta una serie di prodotti sempre più innovativi in tale ambito. Inoltre recentemente abbiamo anche introdotto di fatto anche delle linee di confezionamento per arrivare a fare prodotti finiti al consumatore. Due le caratteristiche che ci caratterizzano sicuramente è tutta la parte di filiera ma anche tutta la parte di ricerca che però non è soltanto ricerca e innovazione in ambito di prodotto, quindi oggi di fatto tutti i consumi alimentari stanno cambiando e continuamente bisogna essere al passo con i tempi, si parla tanto di proteine animali ma anche tanto di proteine vegetali che stanno andando a sostituirle, di produrre meglio più cibo per una popolazione crescente, noi oggi facciamo questo tramite una ricerca in campo, infatti a fianco all'azienda abbiamo un'azienda sperimentale di 30 ettari in cui testiamo costantemente nuove tecniche di agricoltura 4.0, rigenerativa e di precisione e di questo magari ne parleremo dopo. Grazie, buongiorno a tutti, sono Gabriele Mongardi, lavoro per Imageline, credo che valga lo stesso, non so quanti di voi conoscono Imageline, noi siamo un'azienda innovativa, noi invece sviluppiamo soluzioni digitali per l'agricoltura, anche noi abbiamo iniziato quando ancora nessuno lo faceva perché abbiamo iniziato nell'88 e quindi siamo passati da, ovviamente non c'ero neanche io ancora, c'erano i floppy disk, ora invece è tutto in cloud, è tutto online, quello che è il nostro obiettivo da un certo punto di vista è quello di la sostenibilità per le persone, cioè rendere più facile il lavoro degli agricoltori nella gestione di quelle che sono anche tutte le questioni normative legate all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in campo perché dietro c'è una normativa che se uno del mestiere non conosce ma è molto stringente, per gli agricoltori non è sempre facile quindi noi cerchiamo di aiutarli in quest'ottica qui, anche in un'ottica di sostenibilità chiaramente perché tutto questo va nella direzione di un utilizzo efficiente delle risorse in particolare degli input agronomici e anche quindi nella riduzione della chimica che citavi anche prima che è un obiettivo non solo dell'agenda 2030 ma anche del Green Deal europeo, della PAC, insomma di tutto quello che ci va dietro, quindi noi ci occupiamo di questo e di informazione, abbiamo anche una testata online specializzata e quindi ci preoccupiamo anche di far sì che anche le informazioni arrivino agli agricoltori in modo che possano prendere le decisioni migliori strategicamente diciamo per le loro coltivazioni. Grazie, grazie a tutti. Chiudo io il primo giro di tavolo, mi presento, sono Sergio De Pisapia, lavoro per Barilla, anche lì immagino che sia ben nota come azienda a tutti. Comunque giusto qualche numero, giusto per dare un po' di contesto, ovviamente Barilla Food Company con due core business principali come la bakery, quindi prodotti da forno e prodotti meal solution, quindi primo piatto tra pasta e condimenti. Io faccio parte insieme ad altri miei colleghi del Dipartimento di Sostenibilità come team agronomico. In Barilla è da diversi anni che abbiamo costruito questa unità che fa afferimento all'ufficio acquisti, quindi riprendendo anche le parole del collega di Ferrero, qua si parla anche di sustainable sourcing, perché la sostenibilità per una food company parte dal monte e non dalla valle, quindi dalla catena di fornitura. Quindi io insieme ad altri colleghi ci occupiamo di sviluppare e collegare processi e progetti di agricoltura sostenibile con la filiera a monte di Barilla e delle materie prime che acquistiamo. Sostenibilità e innovazione è un po' il tema di oggi, diciamo che da un punto di vista dei diciamo addetti ai lavori sono due termini che mastichiamo da diversi anni ovviamente, quindi l'innovazione penso che sia sempre stata integrata all'interno delle aziende, sostenibilità è qualcosa che comunque da svariati anni le aziende cercano di includere nella propria filosofia aziendale. Credo che però questi due termini devono fare breccia ancora nei cuori e nelle menti più che dei consumatori, sono dei termini che ancora hanno dei connotati molto vaghi, molto alti, che magari fanno difficoltà ad essere compresi e quindi a scaricare il valore di queste due iniziative anche poi su consumatori e ovviamente cittadini, quindi non solo un tema di vendita maggiore ma anche come responsabilità e filosofia della sostenibilità applicata a vivere tutti i giorni. Grazie per l'opportunità di questo panel interessante. Grazie a voi, grazie a voi. Come vedete da una parte io che sono agronomo avevo paura che l'agricoltura non comparisse perché non abbiamo proprio un ospite agricolo e invece poi di fatto esce da tutte le parti perché trattandosi di industria alimentare non possiamo farne a meno evidentemente. Anche se è un settore che rispetto a questo panorama così brillante che abbiamo visto è sempre un pochino più lento e un pochino più così faticoso nei cambiamenti però sono soddisfatta che sia stato rappresentato e citato più volte e poi che questo tavolo ha anche visioni diverse, chi si occupa di ricerca, chi si occupa di servizi, chi si occupa di produzioni di materie prime, di trasformazione quindi riusciamo, riusciremo io mi auguro ad avere una visione a 360 gradi di questo che come ricordava Giordano è un tema complesso, è un settore complessissimo per tantissimi motivi. E quindi procederei con il secondo giro di tavolo attraverso il quale invece vorrei che dal racconto di esperienze il più possibile concrete, cioè che ci facciano entrare un po' nella realtà operativa di quella che è l'esperienza aziendale o l'esperienza di sperimentazione, di ricerca per chi fa un altro mestiere, ci aiuti a capire appunto a che punto siamo, come le aziende stanno introitando questo concetto della sostenibilità e come lo raggiungono attraverso l'innovazione che lo ripetiamo non è solo quella di processo, quella tecnologica ma anche di gestione, di rapporti, di modi diversi di collaborare, di rapportarsi con tutti gli interlocutori della filiera. Partirei, rifacciamo il giro di tavolo come eravamo, preferisci magari sentire prima qualcuno. Va bene, cominciamo da te allora, grazie. E quindi cosa ti devo dire? E' raccontarci un'esperienza, una delle vostre... Ok, vabbè ti do subito una bella notizia, te l'assicuro perché noi ci occupiamo molto quindi dell'agricoltura, quindi lavoriamo molto in sinergia quindi con la produzione primaria e ti do un'altra bellissima notizia che seppur in numeri ridotti l'agricoltura e i nostri ospiti lo sanno bene è anche molto avanti sulla ricerca, sulla trasformazione digitale, molto avanti anche di altri ambiti. All'interno diciamo dell'agricoltura c'è un settore che è quello del... e parlo di questo magari, quello del settore vitivinicolo che avendo a che fare con un prodotto ad alto valore aggiunto è molto avanti nella ricerca quindi della trasformazione digitale, quindi dell'applicazione delle tecnologie 4.0 all'agricoltura. E ti potrei fare due casi molto diversi, cioè il caso dei gruppi operativi che sono questi gruppi finanziati dalla comunità europea attraverso i PSR che promuovono quindi la ricerca applicata, promossa da soggetti appunto di ricerca ed imprese insieme. Adesso è partita una nuova programmazione fino al 2007 quindi c'è la possibilità anche di fare altri progetti. Noi abbiamo seguito tanti di questi progetti, me ne viene in mente uno appunto sul vino che è il progetto Gris, portato avanti con un'azienda vitivinicola importante che è Feudi di San Gregorio che insieme con il mondo della ricerca appunto ha fatto una sperimentazione apparentemente banale, cioè quella di mettere insieme le tecniche agronomiche quindi te lo racconto proprio concretamente quindi va bene, sperando di non annoiare diciamo il pubblico, poi no sono pericoloso perché sono un appassionato quindi se c'è un cecchino che mi spara a un certo punto insomma corre il rischio di andare avanti a oltranza. Allora, però sono abbastanza grosso quindi è difficile che non mi prendano, quindi ti rassicuri questo. Allora, manualmente quindi parliamo del greco titufo quindi di un vitigno particolarmente identitario quindi che produce un vino particolare e poi se vuoi parliamo anche degli aspetti, degli impatti sociali oltre che ambientali perché poi dare una chance alle produzioni nelle aree interne significa anche contrastare l'abbandono di queste aree rurali, però poi ne parliamo all'atere. Quindi immaginate questa collina, quindi un territorio omogeneo, è stata divisa in tre parti quindi provando tre tipi di trattamenti del terreno per dirci così, uno con inerbimento, un altro senza inerbimento, un altro con un tipo particolare di trattamento, in più questi tre lotti sono stati divisi in due con due diversi tipi di potatura, quindi un metodo classico e invece un metodo molto innovativo introdotto da Simoni Tensirci che sono dei ricercatori proprio su nuove tecniche di potatura, quindi abbiamo sei possibilità nell'arco di tre anni, quindi per poter misurare l'andamento con tutta una serie di sensori molto complessi che misuravano i dati ambientali, i dati del terreno e questo cosa ha consentito? Ha consentito di verificare in un arco di tre anni l'andamento di queste produzioni con questi diversi tipi di trattamento e di verificarlo insomma anche in un momento storico particolare di grande cambiamento climatico e sul cambiamento climatico c'è da fare una riflessione importante quindi di come spesso poi mi trovo di fronte a chi dice no bisogna fare le cose in modo tradizionale, le tecnologie c'è ancora un po' questa ideologia di polarizzare un po' ogni discorso e così come vale per tutto ormai nel mondo nel food ancora di più, che vorrebbe un mondo arcaico, contadino che fa le cose buone e un mondo cattivo dell'industria, della tecnologia, della ricerca che fa le cose cattive. Ve lo dico subito che non è sempre così, quindi bisogna stare attenti soprattutto sul vino, forse i vini più pericolosi sono quelli fatti senza tanta cura, insomma. E io quello che dico sempre è che l'agricoltura va vista sempre come innovazione, se ci pensate bene è una grande innovazione, c'è il momento in cui nel neolitico, adesso senza scomodare diversi migliaia di anni fa, l'uomo inizia a collaborare con la natura, quindi è un approccio tecnologico innovativo il momento dell'agricoltura in poi rispetto all'uomo che era raccoglitore nomade che passeggiava, accoglieva una mela e se la mangiava, quindi c'è il fatto stesso di coltivare, ma per non parlare anche del gioco che a un certo punto ha consentito come primo sistema di automazione di mettere un gioco sui buoi o sui cavalli e di arare i terreni ha consentito la crescita demografica dell'Europa nel XII secolo, quindi evolve, evolvono le problematiche e quindi anche i dispositivi della civiltà contadina che erano dispositivi non tecnologici ma orali, noi avevamo dei dispositivi tipo San Martino ogni mosto è vino, è un dispositivo orale che era servito a tramandare una competenza, oggi con il cambiamento climatico non è più possibile, si fa un errore e quindi è importante, è possibile con le nuove tecnologie ricostruire anche nuove ritualità dentro quello che è il mondo, quindi dell'ecosistema naturale e dove in questo naturale, ahimì, per qualcuno di voi bisogna metterci anche le tecnologie perché siamo arrivati oggi qui e tutto questo è frutto di quello che noi abbiamo fatto dell'evoluzione umana, attenzione, tutto questo va calato in una dimensione non solo estrattiva diciamo del valore e quindi il vero punto è capire come tutto questo possa generare valore sui territori, nella collettività e non solo esterne e quindi tornando al progetto, quindi guardando in maniera non ideologica alla tecnologia, cosa è venuto fuori? Che questi sei lotti hanno dato risposte diverse, che sono risposte diverse al tipo di produzione che si intende fare e quindi abbiamo un vitigno che produce di meno ma da un'uva di maggiore qualità che quindi per dei prodotti di maggiore eccellenza può essere utilizzata, abbiamo un lotto che produce di più e magari quelli che sono conferenti, che non hanno una loro azienda vitivinico, non hanno il loro brand, vendono l'uva per capirci, a chi fa dei vini meschiando le altre uve, gli converrà a fare quella lì dove hanno maggiore quantità di vino, in un altro invece risponde diversamente per un ambiente dove c'è meno apporto idrico, quindi la ricerca vista come possibilità, sistema di conoscenza consente poi all'impresa di poter fare le sue scelte. Questo secondo me è importante, secondo me da una parte o dall'altra uscire dalla dimensione anche ideologica dell'essere po' o contro ma affidarsi a quelle che le tecnologie possono aiutarci, un po' alla scienza. Attenzione, questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche l'atomio per chi fa sistema conoscenza, ricerca eccetera, avere anche l'unità di riuscire a dialogare realmente con le imprese, perché questo è un nostro grande vulnus, che spesso l'università segue altre dinamiche, dinamiche e anche altri linguaggi lessici non spesso comprensibili, però se entrambi si fa un passo in avanti, si capisce che si può sostanzialmente elaborare in un momento di grande cambiamento delle soluzioni diciamo alternative, soluzioni comunque di conoscenza soprattutto, questa per me è la vera innovazione. Ci sono cose anche molto più piccole, un po' le ho anticipate, nel senso che noi conosciamo un'impresa di grande eccellenza nel nostro territorio che produce vini biodinamici e anche loro hanno capito che la biodinamica insieme con l'intelligenza artificiale può aiutare ancora di più a fare la biodinamica, perché hai queste informazioni e la capacità anche di poter aggiungere quindi al bagaglio di conoscenze, di competenze quindi dell'agricoltura, del contadino, dell'imprenditore, dei sistemi predittivi. E vi faccio un esempio proprio banale, ma non so adesso l'audience non vuole dire cose molto ormai risapute, però voglio dire ci sono oggi, mettendo queste centraline con alcuni sensori che ormai hanno un costo irrisorio, io ho la possibilità, rimanendo nel vino, rispetto alla pronospeda che è un parassita che si manifesta e che ha necessità di fare i trattamenti, fino a oggi si fanno quattro trattamenti preventivi l'anno. Queste aziende che lavorano con noi il primo anno ne hanno fatto due, poi zero, poi ancora zero, avendo un risparmio economico, un impatto ambientale minore perché si fa meno trattamenti e anche un impatto sociale perché si espone anche il lavoratore meno a queste sostanze. Allora quindi come vedete la tecnologia può concretamente, per rispondere alla tua domanda, essere un vettore di sostenibilità? Certo è che è sempre una scelta, quindi voglio dire, e ve lo dice chi lavora nel mondo delle tecnologie, stiamo attenti al paradigma tecnologia uguale sostenibilità, che è un po' pericoloso e nei media mi sembra a volte che venga fuori. Tecnologia uguale sostenibilità in base alle scelte che uno fa, perché può anche essere invece che le tecnologie possono essere utilizzate per peggiorare quelle che sono delle aberrazioni alle quali siamo sottoposti. Gli esempi sarebbero tantissimi, come vedi il tempo però è passato, però sono a disposizione per approfondire qualche tema, anche dopo se qualcuno volesse chiedermi qualcosa. Stessa domanda? Parto io, poi facciamo partire il video, gli do io il cenno. Mi ricollego a quello che stava dicendo Alex, dell'agricoltura, l'avanzamento dell'agricoltura nelle diverse filiere è molto terogenio e poi soprattutto se andiamo fuori dall'Italia, parliamo del cacao ovviamente, su Ferrero parliamo del cacao, noi facciamo sourcing in diversi paesi, molto in West Africa, Ecuador, Colombia e ovviamente il progresso tecnologico aiuta in molti casi ma non è sufficiente. E allora in questo caso innovazione deve prendere un angolo diverso, che è il motivo per cui abbiamo qui gli amici di Save the Children e in questo caso dobbiamo capire che tipo di collaborazione ci aiuta a rendere la nostra filiera più resiliente, che poi è un investimento che facciamo su noi stessi, perché significa che nei momenti in cui ci sono tensioni sulla filiera tu hai un vantaggio, perché noi crediamo fortemente che una sostenibilità che non crea valore per l'azienda non resiste, non dura nel tempo. Quindi prima di dare la parola a Giancarla magari lanciamo il video. Parliamo di migliorare i migliori i nostri culturali pratici, quindi potremmo più profilità sull'azienda del cacao, che comincia con, per esempio, buona prunione, buona prunione, buona prunione, che è importante per la produttività dei cacao di cacao, ma anche per aiutare la diversificazione del cacao. Perché cacao non c'è un anno che 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 non c'è un anno, quindi lavoriamo con i farmaci in molte mani, con le treningi e anche con l'input, ma anche lavoriamo in le comunità, con il lavoro con i nostri supplieri e anche con i bambini e con i bambini, per dimostrare che possiamo fare una differenza positiva. Sì, ma sono delle foto, quindi se le vogliono mettere, giusto per dare un po' di colore, non aggiungevano molto. Allora, sì, prima di parlare direttamente del progetto, volevo condividere con voi alcuni numeri, che sono dei numeri abbastanza agghiaccianti su quello che è il lavoro minorile. Quindi si parla di 160 milioni di bambini impiegati nel lavoro minorile e quando parliamo di agricoltura è il 70%. Quindi secondo me questi due numeri insieme veramente devono farci riflettere. Anche perché, diciamo, un bambino costretto a lavorare in qualche modo vive una situazione di grande pericolo perché spesso deve toccare magari delle sostanze che sono delle sostanze tossiche oppure banalmente in agricoltura per la raccolta deve utilizzare i coltelli o altri utensili molto pericolosi. Ma diciamo la cosa più drammatica è che i bambini per essere impiegati in qualche modo nel lavoro escono dal sistema scolastico. Quindi uscire dal sistema scolastico vuol dire avere poi un futuro non assolutamente brillante. Con Ferrero prima di questo progetto abbiamo iniziato a lavorare nel 2010, quindi diciamo una storia abbastanza lunga. Dal 2010 abbiamo raggiunto circa 20 mila bambini in cinque progetti diversi. La cosa interessante è che abbiamo lavorato sia su progetti di sviluppo che su progetti di emergenza. Quindi diciamo come partner ci conosciamo molto bene. Quindi questo per dirvi come siamo arrivati poi a lavorare su questo progetto sulla protezione dell'infanzia rispetto a quello che è il lavoro minorile. Abbiamo fatto un pilota, quindi diciamo un po' questa anche l'innovazione. Siamo partiti da questo progetto pilota nel 2017 di tre anni in 25 comunità in Costa d'Avorio. Comunità appunto che lavorano su tutta la parte del cocoa, del cacao. Sappiamo quanto è importante per Ferrero il cuore del business. E da questo progetto pilota siamo passati a quest'altro progetto che è ingrandito. Quindi siamo allargati, non sono più 20 comunità ma sono 65 comunità. Quindi abbiamo aumentato notevolmente. Al momento, diciamo su due anni di progetto, il progetto dura cinque anni. Questo lo leggo perché è importante dirvi i numeri che abbiamo raggiunto perché sono numeri veramente interessanti. 16.178 persone di cui 3.143 bambini. Il progetto diciamo ha due sfaccettature. Da una parte appunto parliamo di protezione dell'infanzia rispetto al lavoro minorile. Dall'altra, che è la vera innovazione, lavoriamo sulle comunità. Quindi sul benessere della comunità. Sinceramente, parlare di lavorare direttamente solo sui bambini. Sappiamo che in passato è stato fatto, però sicuramente è più importante poter invece portare on board tutta la filiera. Quindi è questa poi la vera innovazione. Quindi ci devono credere le persone che poi stanno sul campo. Solo per darvi degli esempi. Una delle cose che abbiamo fatto che appunto aiuta a prevenire poi l'abbandono scolastico sono queste classi ponte. Molti dei bambini uscivano appunto dal sistema scolastico perché dovevano lavorare. E noi abbiamo creato queste classi ponte che in qualche modo fanno recuperare il gap ai bambini che possono poi ritornare a scuola senza aver perso poi del tempo. Quindi questo è il lavoro che facciamo sui bambini, però lavoriamo anche moltissimo sulla comunità. Quindi il genitore in qualche modo non si deve sentire più costretto di dover mandare il bambino a lavorare nel momento che c'è il raccolto. Ma si può appoggiare a delle comunità che abbiamo creato, abbiamo attrezzato di persone che danno il loro lavoro ad un costo abbastanza basso. Quindi le famiglie possono permettersi questo passaggio. In più abbiamo lavorato su dei gruppi di credito ovviamente dove le famiglie in qualche modo possono chiedere anche dei prestiti a interesse zero. e quindi sono ovviamente invogliate a fare tutto ciò. Un esempio, una storia tra l'altro avete visto il papà di questa ragazzina prima che è Jeremie che ha una figlia, Jara, di 14 anni. A Jara non era mai andata a scuola perché era stata sempre impiegata nei campi. Dopo aver seguito una classe ponte è riuscita ad entrare nel sistema scolastico. è iniziato per esempio a leggere i contratti. Banalmente ci parlavano di misurazioni quando deve per esempio fare dei conti. Prima non riusciva a farlo. Quindi cose veramente banali che a noi sembrano banali ma cambiano la vita di una persona e la rendono assolutamente più indipendente. E su questo volevo semplicemente dirvi proprio una frase, quindi le parole di A Jara che parlano sicuramente meglio di me, vi possono raccontare. Lei dice sono scoppiate le lacrime il giorno in cui ho ricevuto da Sierde Cildre il mio primo zenetto e i miei libri. I miei genitori che non potevano permettersi di scrivermi a scuola ora sono orgogliosi di me quando vedono i miei risultati dopo le valutazioni. Ma la cosa invece più importante è quello che ha detto Jeremy dopo questo intervento che è stato fatto grazie a Ferrero. Siamo agricoltori non affabetizzati e il progetto di Save the Children ci ha davvero aperto gli occhi sui diritti dei bambini. Ora abbiamo capito che andare a scuola è un bene per i nostri figli invece di lavorare nei campi. Quindi è proprio questa l'innovazione. Far cambiare l'idea alle persone che vivono sul campo e non vedono il bambino come uno strumento per guadagnare in quel momento. L'altro pillar sul quale abbiamo lavorato e che secondo me è eccezionale è il fatto di lavorare direttamente sui suppliers. Quindi dare un apporto tecnico sia a Ferrero che ai suppliers per quanto riguarda quelli che sono dei programmi di sviluppo all'interno delle comunità. Questo per avere un'omogeneità di questi programmi e soprattutto la cosa importante è anche il monitoraggio. Quindi capire se veramente alla fine non si stravolge quella che è la cultura della comunità stessa perché anche questo è importante. Però si va avanti, quindi si cerca di andare avanti. L'altra cosa importante che è stata fatta sono state scritte le linee guida e devo dire che questo progetto noi lo definiamo olistico per un semplice motivo perché veramente coinvolge tantissimi attori. Quindi da una parte c'è l'azienda dall'altra ci siamo noi come ONG poi ci sta la comunità che va fino all'ultimo supplier prima lo diceva Nicola loro lavorano con una catena infinita quindi non possiamo pensare arriviamo fino alle cooperative quindi veramente fino devi arrivare lì quindi andare alla radice del problema non puoi pensare di risolverlo come grande azienda perché sarebbe veramente un po' anche troppo facile e semplificativo. L'altra cosa è il fatto di esserci aperti al territorio quindi di aver anche coinvolto altri stakeholder e vedi per esempio l'International COCOA Initiative quindi condividere con loro quali erano diciamo le best practice di questo progetto e il nostro auspicio è quello che il progetto possa continuare lo dicevo prima Nicola secondo me uno di questi questo progetto non può essere un progetto one shot perché sarebbe lanciato lì abbiamo fatto qualcosa lo scriviamo nel nostro bilancio sociale va bene arrivederci no questo deve essere la prima goccia che in qualche modo possa in qualche modo arrivare poi a creare quel cambiamento che deve essere un cambiamento comunitario solo in questo modo riusciamo appunto tutti insieme a fare la differenza quindi niente ringrazio per questa opportunità posso aggiungere come diceva Giancarla la parte veramente innovativa è che ci sono due noi chiamiamo due pilastri uno è il loro intervento diretto che lo fanno in una delle zone per noi più importanti stimiamo circa dal 5 all'8 per cento tutti i nostri volumi sono coperti direttamente nelle comunità in cui c'è Save the Children quindi il nostro sogno lì è di fare la nostra finestra dove ci sono i migliori fornitori dove c'è veramente l'area più sviluppata fra le aziende agricole che ci forniscono in parallelo si lavora con i nostri fornitori per capire quali sono le lezioni che ci possiamo portare su tutti gli altri volumi che compriamo quindi ovviamente c'è un lavoro di concerto e anche di creazione di consenso che non è scontato con tutta una serie di altri fornitori che è estremamente complesso però questo per noi è passare da un intervento diretto importante esteso come è questo caso ma trasformarlo in modo di lavorare su tutta la filiera grazie molto molto interessante veramente ti passo questo grazie ai colleghi di ferro veramente molto interessante io rimango invece sulla parte ambientale dell'ISG quindi della sostenibilità quindi passiamo dal sociale all'ambientale introducendolo dicendo che ormai la consapevolezza che il nostro modo di produrre di trasportare di consumare è chiaramente ormai arrivato a dei livelli di insostenibilità per cui le aziende inevitabilmente si trovano nella condizione di dover intervenire il primo punto di partenza che secondo me è fondamentale nel momento in cui un'azienda inizia un percorso verso la sostenibilità è l'innovazione è la comprensione cioè capire e qui diventa molto importante il concetto di filiera di cui ha parlato Giancarla perché intanto non possiamo limitarci a guardare la nostra parte di produzione nel caso specifico mio comunque un pezzo della value chain ma davvero è una indagine una considerazione che dobbiamo fare nel complesso quali sono gli impatti ambientali quali sono gli elementi di rilevanza all'interno di una certa filiera agricola che è necessario approcciare perché è chiaro che non possiamo pensare di intervenire allo stesso momento su tutti i fronti quindi diciamo che questa prima indagine è fondamentale deve sfociare inevitabilmente in un'analisi quantitativa dal nostro punto di vista la filiera del pomodoro ha una grossa criticità che è l'elemento idrico la filiera del pomodoro è una filiera particolarmente idroesigente lo è la fase di trasformazione nel momento in cui dobbiamo scaricare il pomodoro trasportarlo lavarlo ci sono veramente dei processi che richiedono molta acqua e la parte agricola stessa richiede moltissima acqua quindi la prima cosa fondamentale è misurare quindi noi abbiamo iniziato un'attività di misurazione della water footprint quindi qui diciamo ci appoggiamo allo strumento dell'LCA nel 2010 insieme al WWF è un'attività che abbiamo ripreso in maniera molto più organica e organizzata da quest'anno perché vogliamo proprio che diventi parte integrante del modus operandi cioè una footprint calcolata di anno in anno proprio per misurare gli elementi di riduzione che abbiamo introdotto grazie all'innovazione quindi diciamo che l'analisi quantitativa è fondamentale e qui diciamo diventa importante il contributo che si diceva di Gabriele prima cioè la digitalizzazione del dato e la condivisione del dato perché nel momento in cui bisogna calcolare una water footprint di una filiera dall'agricoltore abbiamo bisogno dei dati primari quindi dobbiamo raccogliere informazioni legate a quanti cicli di irrigazione fanno quanta acqua consumano quanto fertilizzante che tipo di fertilizzante una serie di informazioni che chiaramente non è sempre semplicissimo ottenere e qui sta anche un po' l'elemento di collaborazione con la filiera a monte cioè la vagliucene deve essere in qualche modo integrata in progetti e processi che in qualche modo ciascuno fa la sua parte e ci si aiuta nell'attività di calcolo a questi punti nel momento in cui si ha la misura di quanto impatta la filiera lì si può allora intervenire con attività di riduzione quindi sicuramente si parte da diciamo la definizione di disciplinare di coltivazione quando si fanno contratti con la parte agricola ciascuna azienda solitamente quando investe ecco in attività di sostenibilità nella filiera a monte definisce dei disciplinare con delle regole di coltivazione nel nostro caso sono basate sul chiaramente una tipologia di agricoltura integrata con una serie ecco di interventi legati appunto alla qualità del pomodoro ma non solo la parte idrica abbiamo detto è un elemento fondamentale poi so che Manuel avrà anche dei suggerimenti successivi però la parte di irrigazione è chiaramente quella che può fare la differenza nel decennio passato quando abbiamo comunque iniziato a calcolare la water food print l'attività di irrigazione veniva fatta principalmente per aspersione o scorrimento adesso chiaramente la maggior parte delle aziende agricole usa un'irrigazione goccia a goccia questo già consente una riduzione significativa abbiamo misurato nel decennio passato delle riduzioni anche del 3-4% sembra una percentuale molto piccola ma in termini di metri cubi veramente una quantità enorme dopodiché c'è l'applicazione dell'agricoltura di precisione con dei DSS i DSS consentono di dare suggerimenti all'agricoltore affinché abbia la possibilità di prendere in considerazione negli interventi di fertilizzazione e di irrigazione che fa quelle che sono le condizioni al contorno legate alla tipologia del suolo alla situazione del suolo alle condizioni meteoclimatiche allo stato anche di crescita della pianta e questo dà di nuovo una mano nell'ottimizzare la parte agricola infine stiamo applicando dei dispositivi IoT come ad esempio dei sensori in vivo nella pianta questi sensori hanno il pregio di poter misurare le condizioni di stress idrico della pianta perché misurano lo stato della linfa della pianta stessa e quindi forniscono informazioni indirette ad una centralina sulle esigenze della pianta da un punto di vista idrico stress idrico richiede più acqua bisogna intervenire con attività di irrigazione oppure la pianta sta bene non ha senso sprecare dell'acqua nel momento in cui non ha bisogno di acqua e questo stiamo stimando ci potrebbe portare a riduzioni anche del 40% dei consumi idrici quindi veramente un'enormità proprio perché la fase di irrigazione è quella che effettivamente impatta maggiormente l'innovazione chiaramente non si ferma ci sono diversi elementi che stiamo valutando nel nostro percorso di sostenibilità che vanno dall'agrivoltaico all'agricoltura rigenerativa per passare al tema delle immagini satellitari che molto spesso con le mappe di umidità vengono utilizzate per valutare l'esigenza di irrigazione o meno fino ad arrivare allo sviluppo che stiamo seguendo in questi anni di varietà più resilienti quindi varietà di pomodoro che siano in grado di sopportare condizioni di criticità idrica maggiori questo è importante perché in realtà non si tratta poi semplicemente di voler fare sostenibilità in qualche modo di volere chiaramente dare un contributo in positivo alla riduzione dell'impatto ambientale delle nostre filiere di produzione ma è proprio anche un tema e un'esigenza che le aziende hanno legati proprio al contesto in cui ci troviamo a produrre se pensiamo al tema dei cambiamenti climatici l'elemento di diciamo siccità di lunghi periodi di siccità di disponibilità di acqua nelle falde è un elemento di rischio enorme per le aziende agricole e per l'azienda del pomodoro in particolare quindi il fatto in qualche modo di riuscire ad intervenire in maniera diciamo diciamo per in qualche modo prima che effettivamente i casi di disagio idrico possano effettivamente impattare sulla produzione quindi determinare una sorta anche di business interruption è importante proprio intervenire per riuscire a mitigare il rischio e a trovare delle alternative prima che effettivamente sia troppo tardi grazie vedo io ho paura che di agricoltura non si parlasse invece vedo che è il focus dell'innovazione poi finisce tutta là mi immaginavo qualche processo industriale super così super sostenibile mi immagino ma innovazioni di questo tipo e invece non è che sono contenta ma capisco che di fatto poi l'agricoltura che usa l'ambiente naturale come risorsa primaria è evidente che quella almeno dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale poi ha le ricadute più importanti prego Manuel ok mi ricollego in parte anche a molte cose che diceva Laura e anche l'introduzione di Francesca due punti fondamentali abbiamo parlato della carta dell'ONU l'ONU ci dice anche che nel 2030 ossia tra poco più di sei anni passeremo da 8 a 10 miliardi di persone la FAO dall'altro lato ci dice che tutti i nostri terreni agricoli non è che aumenteranno nel frattempo anzi è già tanto se riusciremo a mantenerli questo cosa comporterà comporterà inevitabilmente che tutti gli agricoltori dovranno intensificare le loro produzioni quindi mettere sotto stress fruttare ancora di più il terreno e di fatto andare a depauperare tutto ciò che è la risorsa idrica e la biodiversità cosa possono fare le aziende come Mutti Martino Rossi Ferrero Barilla e anche le aziende di servizio a supporto e cercare di invertire questa tendenza noi abbiamo cominciato nel 2009 quando forse si parlava poco del problema idrico abbiamo sviluppato una società che si chiama Underdrip e abbiamo cominciato a brevettare dei sistemi di subirrigazioni di precisione sistemi di subirrigazioni di precisione sostenibili che andavano utilizzare la tecnologia per migliorare tutte le tecniche agronomiche brevemente vi dico di cosa si tratta si trattava di prendere quella che era la classica irrigazione goccia a goccia portarla sotto il terreno posizionare delle manichette a circa 40 cm al terreno e andare a collegarle a un sistema di GPS questo sistema di GPS andava a puntare sopra ogni manichetta un buco e le nostre macchine seminatrici vanno a seminare esattamente sopra la manichetta il seme della pianta capite che in questo modo noi cosa facciamo andiamo a dare utilizzando i sensori che citava anche Laura l'acqua alla pianta quando ne ha bisogno riducendo di fatto del 60% la risorsa idrica si parlava del pomodoro noi facciamo tantissimo mais siamo tra i più grossi produttori di mais italiano considerate che il mais è una pianta che va irrigata almeno 5 volte al giorno tutti i sistemi che voi vedete nei campi i classici sistemi a PV ossia quelli a caduta vi dico soltanto che in giornate standard in cui la temperatura del sole è 40 gradi per essere 40 gradi bastano 30 gradi della temperatura circa l'80% dell'acqua non raggiunge il terreno evapora prima una volta che tocca il terreno soltanto il 5% bagna la prima parte della superficie quindi immaginatevi la dispersione noi con questa tecnologia siamo riusciti a ridurre tutto questo sistema ma non solo siamo anche riusciti di fatto a eliminare emissioni di azoto oggi se ne parla di pochissimo sarà un tema di forte attualità nei prossimi anni sulla produzione dei crediti bianchi dei certificati bianchi perché di fatto noi tutte le grandi aziende dovremmo ridurre le loro emissioni e l'agricoltura voi sapete che produce circa il 30% delle emissioni di gas serra il 40% è fatto da allevamento quindi di fatto tutta questa tecnologia aiuterà anche a ridurre queste emissioni perché di fatto andando a ridurre l'azoto e questo come lo facciamo lo facciamo tramite un'agricoltura rigenerativa andiamo di fatto a ridurre l'azoto in atmosfera portarlo nel sottosuolo e rigenerare il terreno perché quello che non vi ho detto e vi dico adesso è che questo sistema evita il ribaltamento dei campi cosa significa? Significa che tutti noi siamo abituati io stesso fino a qualche anno fa l'agricoltura portava l'aratura l'aratura se volete è come sterminare la biodiversità Barilla giustamente fa dell'ape un simbolo un simbolo di biodiversità ma se volete il mio punto di vista il vero simbolo è il verme che è poco sexy lo so però di fatto oggi se noi prendiamo un terreno lo ribaltiamo lo portiamo alla luce del sole a 40 gradi tutta la biodiversità muore nel giro di due ore dobbiamo concimare fertilizzare quindi ricrearla per poi distruggere l'anno dopo i nostri sistemi i campi non vengono toccati per più di 20 anni e di fatto si autogenerano quindi di fatto andiamo a seminare piante cereali come mais piuttosto che il miglio andiamo poi a piantare leguminose che sono piante azoto fissatrici e questo di fatto andiamo continuamente a rigenerare il terreno senza ribaltarlo e qui si parla di agricoltura conservativa l'altro brevetto che abbiamo fatto possibilità di fare la consociazione agricola cosa significa agricoltura tradizionale agricoltura a reddito pianto può essere mais può essere farro può essere grano quello che vogliamo coltivo per sei mesi tolgo e il campo deve essere a riposo quindi di fatto non è a reddito il campo deve riposare per rigenerarsi abbiamo detto prima che stiamo aumentando abbiamo bisogno di più alimentazione più cibo più materia prima mettiamo sotto stress il terreno con questo sistema noi andiamo a piantare contemporaneamente due culture quindi immaginatevi le classiche piante c4 quel mais piuttosto che le piante c3 che sono le piante basse leguminose quindi all'interno dell'anno abbiamo già testato con successo da ormai cinque anni la doppia cultura quindi piantando contemporaneamente sfruttando anche tutto il sistema di irrigazione andando a segmentare le manichette per dare l'acqua giusta alla pianta giusta quella che ne ha bisogno e di fatto abbiamo fatto due culture quest'anno stiamo testando con ottimi successi la terza cultura facciamo un esempio pratico abbiamo piantato dell'avena abbiamo raccolto l'avena abbiamo piantato il mais contemporaneamente abbiamo piantato le leguminose raccoglieremo il mais e in ultimo le leguminose quindi di fatto andremo a fare 3 raccolti all'interno dello stesso anno sullo stesso campo tutelando di fatto la biodiversità usando le leguminose come piante azoto fissatrici usando le piante alte per permettere alle leguminose di crescere fuori periodo e poi c'è anche tutto un tema di stagionalità e quindi spostare le culture per fare questo tramite la nostra ricerca e sviluppo stiamo anche studiando nuove varietà si parlava del clima oggi il clima non è più una scusante per dire i raccolti sono andati male aziende come Martino Rossi che sono produttrici di materie prime trasformatori non possono andare dai clienti e dire questa no c'è poca materia prima non possiamo permetterci quindi noi ci dobbiamo far carico di valutare in giro per il mondo nuove varietà magari dal Canada con cambiamenti climatici portarle qua e quindi farle crescere fuori stagione allo stesso tempo dobbiamo far sì che le piante siano anche sane quindi per ridurre le emissioni ma anche ridurre chiaramente i concimi per fare questo dobbiamo nutrire le piante quindi non possiamo più bagnare le piante come vi dicevo prima motivo per cui stiamo studiando all'interno di questo sistema anche tecniche di fertilizzazione cosa significa stiamo andando a mettere biostimolanti all'interno dell'acqua specifici per determinata pianta in modo che possano sviluppare al meglio le loro caratteristiche anche qui un esempio concreto si parla tanto di proteine vegetali il pisello di fatto è forse una di quelle che ne ha di più in natura sviluppa circa il 22% noi dai primi test abbiamo portato il pisello a sviluppare 27 28% di proteine che è un 30% di proteine in più questo come? facendo sì che la pianta sia sana che prenda tutta la luce del sole possibile e che allo stesso tempo possa esprimersi al meglio quindi raccogliendolo anche fuori periodo quindi dandogli la possibilità di crescere con la luce del sole che è quella che porta le proteine e essere raccolta dopo quando solitamente un pisello si raccoglie a giugno oggi noi raccoglieremo i piselli da due settimane quindi completamente fuori periodo con un contenuto proteico molto alto questo per concludere che la tecnologia non è nemica del buon cibo spesso si dice ah il cibo buono è quello fatto in maniera tradizionale assolutamente no Alex ci ha scritto anche un libro comunque sia sulle nuove tecniche eh lo devo ancora leggere poi poi torno da te però mi è arrivato grazie quindi di fatto questo per dire che la tecnologia è un valido alleato e oggi nessuna azienda ne può fare a meno grazie grazie eh io colgo direi questo assist abbastanza faccio partire un cronometro intanto esatto dopo ci regoliamo dopo i conti grazie eh no è assolutamente assolutamente vero io parto da facendo un passo indietro giusto per svegliarvi un attimo prima Manuel ha parlato di piante C3 e piante C4 quanti di voi hanno capito che cosa sono? perfetto ok qualcuno si vede chi ha studiato agraria allora eh non tanto per entrare nello specifico ma per dirvi lui vi ha dato un dato che per voi non è un'informazione questo è uno dei punti fondamentali che per noi che lavoriamo con i dati eh è importante è da capire un dato per essere utile per essere un'informazione deve essere analizzato deve essere messo in contesto deve essere utilizzato il dato è diventato anche nel contesto agricolo di oggi un elemento in più è una produzione in più è come tutte le altre risorse deve essere estratto deve essere elaborato e poi può diventare utile diventa utile quando l'agricoltore recepisce un'informazione che gli è utile per fare per prendere una decisione in questo ambito qui l'ho preso un po' la larga per dire che noi come Imageline siamo impegnati anche nella formazione cioè partiamo fin dalle scuole abbiamo iniziato a lavorare diciamo anche con le scuole di Agraria in particolare per avvicinarli proprio all'utilizzo delle nuove tecnologie fin dall'inizio proprio perché noi crediamo fortemente che le nuove tecnologie possano essere utilizzate in maniera utile nei campi ma perché possono essere perché siano utili nei campi quindi chiaramente l'agricoltore deve essere in grado di usarle e deve essere in grado di sapere che valore danno in più alla produzione quindi per questo da diversi anni che già collaboriamo con le scuole forniamo i nostri strumenti in modo che già dai banchi di scuola gli studenti possano iniziare a prendere familiarità con questi strumenti e soprattutto a sviluppare una mentalità innovativa quindi essere portati all'innovazione anche nel cercare innovazione e produrre innovazione noi stiamo parlando anche di innovazione in agricoltura abbiamo però abbiamo sentito che ci sono delle cose che ritornano la consociazione agricola non è una cosa che ci siamo inventati adesso è una cosa che esiste da tanto tempo però fatta in un certo modo diventa un'innovazione l'innovazione spesso viene perché si mettono insieme delle cose che prima non stavano insieme e questo è un nuovo modo anche di fare agricoltura quindi noi questa era una delle cose concrete che facciamo oltre a sviluppare software scrivere codice ok però vogliamo anche fare in modo che sia utile all'utente finale e raccolgo un altro spunto sempre relativo al tema dei dati che diceva prima Laura dei dati dal campo ovviamente devono essere condivisi e questo è un altro tema molto dibattuto al momento il fatto che molte volte i sistemi informatici non sono interoperabili tra di loro quindi è facile che l'agricoltore debba usare uno schermo per utilizzare una trebbiatrice uno schermo per utilizzare l'arato uno schermo per utilizzare un'altra roba un software per le centraline un software per l'altro e l'agricoltore si perde nell'agricoltura noi il nostro titolare che si chiama Ivano tutte le volte dice che non vogliamo che un agricoltore digitante cioè che sta tutti i giorni a digitare dati ma digitale nel senso che sa cosa vuol dire come utilizzarli e quindi il tema centrale dovrebbe essere che l'agricoltore immette il suo dato una volta e quella volta e dopo va dove deve essere utilizzato e l'agricoltore sul campo la presenza dell'agricoltore sul campo non è non è scontata l'agricoltore che conosce che sa che cosa sta facendo che può dire appunto quanta acqua dato è l'agricoltore che tra l'altro deve dire che farmaci e che agrofarmaci ha utilizzato quanti di voi hanno mai preso una aspirina? ok avete letto nel dettaglio quello che c'è scritto nel foglietto illustrativo? ok qualcuno dice sì altri vedo un po' l'agricoltore lo deve fare cioè deve sapere per ogni cosa che utilizza in campo lui deve sapere esattamente cosa c'è scritto nell'etichetta e deve utilizzarlo solo in quel modo lì sapete quanti prodotti sono registrati per essere utilizzati come agrofarmaci oggi in Italia? più o meno? numeri? 100 o di più? esatto qui forse qualcuno che sapeva qualcosa sono più di 2000 chiaramente l'agricoltore non può sapere a memoria tutte le etichette dei prodotti anche perché tanto cambiano da un giorno all'altro quindi e quindi questo è un altro un altro punto in cui il digitale e le tecnologie digitali possono andare in aiuto dell'agricoltore in un certo senso anche come una sorta di sostenibilità sociale perché questo agricoltore poveretto vuol fare l'agricoltore vuol stare in campo a coltivare invece che stare alla scrivania a inserire dei dati a compilare dei registri e quindi noi cerchiamo di fare anche questo chiaramente e mettere a disposizione ovviamente le informazioni che l'agricoltore registra perché deve registrarle e nel momento in cui abbiamo quelle informazioni usarle in modo da dare all'agricoltore un servizio ulteriore se sappiamo quanto Agrofarmaccio ha utilizzato a seconda di com'è andata la stagione nel futuro io mi immagino che riusciremo anche a andare a dare dei consigli appunto un DSS che è un sistema di supporto alle decisioni all'agricoltore che riesca a interpretare guarda l'anno scorso il clima è andato così tu hai dato più o meno questi trattamenti insomma sono dati reali raccolti in campo un altro spunto invece che prendo da Alex perché prima si è parlato di viticoltura in Italia ci sono circa 700 mila ettari di vite noi stiamo partendo con un progetto legato all'agricoltura rigenerativa al carbon farming detto così in agricoltura quindi nel fare in modo che le piante facciano quello che fanno tutti i giorni cioè togliere anidride carbonica dall'atmosfera e lo possono fare in maniera sempre più efficace e ovviamente noi gestire le colture in modo come anche diceva Manuel prima di non andare a poi dopo liberare questa anidride carbonica che è nel suolo perché quando si ara il suolo la prima cosa che succede è che la sostanza organica si ossida quindi quello che prima era humus nel terreno diventa anidride carbonica quindi torna nell'atmosfera quello che noi vorremmo fare è col supporto di tecnologie informatiche e digitali è fare in modo di misurare quanto delle determinate pratiche di gestione sostenibile del suolo possono andare a sequestrare effettivamente anidride carbonica dall'atmosfera e questo chiaramente porta un beneficio perché i terreni agricoli sappiamo benissimo sono tutti carenti di sostanza organica che questo va a peggiorare anche le qualità poi del suolo ma non solo quindi dare un beneficio in termini ecologici all'agricoltore che ha un suolo migliore ma anche economici perché si sta parlando poi in questi ora si sta parlando anche di andare a rimunerare questo sforzo per gli agricoltori quindi andare a riconoscere dei crediti di carbonio che sapete forse avete sentito parlare quindi andare a rimunerare questo sforzo per gli agricoltori e quello che noi cerchiamo di fare con questo progetto un progetto finanziato dal programma Life dell'Unione Europea è cercare di fare in modo che questo circolo virtuoso sia sostenibile per l'agricoltore che quindi lui chiaramente deve lavorare di più per gestire in maniera sostenibile il proprio vigneto se però questo lavoro in più gli viene remunerato in modo che sia sostenibile anche economicamente sarà più ovviamente invogliato a farlo e questo genera poi un circolo virtuoso noi stimiamo anche col supporto del CREA dei ricercatori del CREA che ci possa essere anche uno stoccaggio di anidride carbonica nel suolo delle ordine dal 2-5 tonnellate per ettaro se moltiplichiamo per i 700.000 ettari di vite che ci sono in Italia arriviamo a dei numeri molto importanti se poi lo moltiplichiamo per i 3,2 milioni di ettari di vite che sono in Europa ancora di più se poi ci allarghiamo non solo la vite ma tutto il resto capiamo che si può andare in una direzione in cui certo l'agricoltura oggi sappiamo che è responsabile di circa il 25-30% delle emissioni ma l'agricoltura è anche il settore che può sequestrare anidride carbonica all'atmosfera perché usa le piante che è la cosa che fanno da sempre sequestrare anidride carbonica all'atmosfera e trasformarla in carbonio organico cioè in pianta e quindi noi su questo puntiamo molto perché ci crediamo crediamo che questo possa essere anche un supporto per gli agricoltori e anche un riconoscere quello che è il lavoro dell'agricoltore anche in termini di servizi ecosistemici che fa per i propri campi non mi dilungo di oltre perché credo di essere arrivato più o meno grazie faccio un piccolo cappello introduttivo non so se è vera dalla presentazione magari la proiettiamo così diciamo abbiamo tutti un supporto visivo ho finito il giro c'è un supporto visivo sì sì si vede cerco di tenere alta l'attenzione riparto un attimo ovviamente essendo l'ultimo abbiamo un po' fatto questo excursus sulla sostenibilità è declinata in varie caratteristiche peculiari appunto siamo andati dalla ricerca in campo con lo sviluppo di DSS lo studio dei modelli aspetti sociali focus sull'irrigazione buone pratiche agricole dati che diventano informazioni la domanda a questo punto che vi rigiro è ma a questo punto cos'è sostenibilità di tutte queste buone pratiche la risposta molto brevemente è tutte fondamentalmente non c'è qualcosa che esclude esclude l'altra perché in questo termine la sostenibilità è qualcosa che deve includere tutto quello che riguarda la filiera calcolare gli impatti quantificarli e ridurre ovviamente quell'impatto per preservare lo sviluppo perché appunto la sostenibilità mi piace un po' anche prendere la terminologia che viene utilizzata in Francia quindi durabilità la durata qualcosa che dura nel tempo e non viene depauperata diciamo così per lo sviluppo cieco appunto quindi riprendendo il punto iniziale che avevo introdotto questa sostenibilità è sempre molto masticata dagli addetti al settore ma vedo molta confusione per la definizione e soprattutto la comunicazione di queste iniziative di sostenibilità verso il consumatore che viene sempre bombardato di sostenibilità questa sostenibilità quell'altra aspetta però c'è quello più quella insomma c'è una bella giungla di definizioni e certificazioni quello che vi volevo presentare oggi appunto è un tentativo un progetto che ha trovato la luce e la sua applicazione recentemente che diciamo abbiamo sviluppato insieme a questa start-up italo-francese che si chiama Connecting Food Connecting Food è una realtà specializzata in tracciabilità con tecnologia blockchain se possiamo andare avanti mentre ok grazie questa tracciabilità in tecnologia blockchain a cosa serve facciamo un passo indietro prima di introdurre il progetto vero e proprio come ben sapete tutti quanti il pesto l'ingrediente eroe è sostanzialmente il basilico questa cultura è una cultura molto particolare e specifica che richiede molte cure e sostanzialmente basilicoltori non ci si improvvisa al che grazie all'impegno che Barilla e i suoi fornitori hanno profuso negli anni abbiamo una filiera ventennale sostanzialmente quindi c'è un rapporto di fiducia e crescita reciproca con la nostra filiera agricola abbiamo messo a punto quello che è un disciplinare di coltivazione del basilico e nella slide potete vedere i cinque pilastri sulla quale noi andiamo a battere quindi sono varie declinazioni della sostenibilità in questo caso vediamo appunto la gestione dei fitofarmaci come è stato accennato prima l'inclusione della biodiversità quindi la protezione della biodiversità la gestione idrica la cura del suolo e appunto la parte di connessione tra quello che è la filiera agricola e la filiera alimentare quindi alcune standard di raccolta e quindi appunto per favorire il dialogo tra impresa agricola e industria tutto questo come può essere raccontato con uno slogan o una pubblicità o diciamo un logo e diventa veramente molto 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 complicato e può destare anche curiosità nel consumatore più evoluto o nel tecnico che vuole approfondire queste tematiche quindi sostanzialmente che cosa che cosa abbiamo fatto se gentilmente potete andare alla slide successiva con questo progetto di tracciabilità noi siamo andati a raccogliere e al ritroso della filiera tutti i passaggi quindi le tracce di questa di questa di questa filiera e delle buone pratiche che vengono applicate a monte di essa attraverso un'opera di rintracciabilità quindi abbiamo rimesso in fila la filiera abbiamo raccolto un indizio per ogni passaggio e l'abbiamo raccolto in un sistema di tracciabilità che abbiamo deciso di puntare sulla tecnologia blockchain per garantire immutabilità del dato quindi un dato che sia fruibile e immutabile e soprattutto quindi sicuro per chi vuole vuole andare più in profondità nella narrazione e tutta questa filiera viene resa disponibile al consumatore tramite un applicativo web quindi una web app che è fruibile tramite un'altra diciamo tecnologia che il Covid purtroppo ha reso molto diffusa che è quella del QR code sostanzialmente quindi questo applicativo B2C tramite una web app se andiamo alla slide successiva questo è un esempio si potete anche schippare l'animazione questo è un esempio di come la sostenibilità viene integrata all'interno di un'impresa agroalimentare come potete vedere nel corso del tempo anche la parte diciamo di packaging di etichettatura sono andate un po' di pari passo con quello che è dell'applicazione di un progetto di sostenibilità quindi dal vasetto standard con il nuovo rilancio il loghino di agricoltura sostenibile e appunto l'applicazione recentemente di questo QR code questo ovviamente anche diciamo il QR code è stata un po' una trovata per anche ottimizzare lo spazio come vi dicevo la consuma verso il consumatore c'è anche un dovere di trasparenza e di comunicazione e certe volte limitare tutta una frase diventa veramente riduttivo oltre al fatto che comunque su uno spazio veramente ridotto come quella di un barattolino di pesto è ancora più complicato andare a fare storytelling approfonditi con tutte le notizie e tutti gli impegni che la nostra filiera monte applica da diversi anni quindi è anche per dare valore allo sforzo che questa filiera propone da tanti anni seguendoci e lavorando insieme con l'applicazione di queste buone pratiche di queste buone pratiche agricole concludo con l'ultima slide cercando anche di essere un po' interattivo per chiunque volesse provarlo il QR code funziona con l'inserimento del codice lotto quindi semplicemente scannerizzandolo con un telefono si può accedere all'applicativo web inserendo il codice lotto che si trova su ogni vasettino di pesto mi raccomando non cancellate i B5 perché sennò non funziona ne va solo inserito il codice numerico di 6 cifre e diciamo si scatena la tracciabilità del vasetto di pesto quindi noi per ogni vasetto di pesto possiamo andare fino al campo e capire effettivamente tutti i fornitori che hanno contribuito alla creazione di questo lotto di prodotto quindi trasferenza tracciabilità e valorizzazione della filiera e degli sforzi che propongono da anni quindi ovviamente nella web app c'è uno spazio decisamente molto più ampio e nutrito per dedicare agli approfondimenti dovuti che la sostenibilità merita e niente questo è un po' la nostra un caso di applicazione virtuosa dopo il celeberrimo carta del mulino come ci accennava prima Emanuele con i fiori e le apette abbiamo esteso anche a un'altra materia prima agricola qual è il basilico e niente questa è un po' la nostra visione grazie grazie mille grazie questo secondo giro di tavola è stato molto interessante e mi hai come dire anticipato perché una delle mie curiosità rispetto ad aziende che hanno a che fare e che vendono direttamente al consumatore era proprio capire un po' i consumatori su questa sostenibilità e sulla complessità dell'idea di sostenibilità che non è solo ambientale e credo e temo tra virgolette che nel consumatore sia associata sostanzialmente a un aspetto ambientale come la vedono la chiedono come la si comunica adesso abbiamo visto un esempio di come la si comunica non mi piacerebbe sapere non è per mancanza di fiducia quanti guardano il QR code e lo aprono no? perché io che che sostanzialmente sono siamo come tutti noi siamo consumatori pur essendo del mestiere passatemi il termine non so se lo farei no? allora è vero giustamente come si fa a mettere su un vasetto così piccolo tutta questa questa storia probabilmente come ci diceva Alex l'informazione la comunicazione che si fa sul cibo è più spettacolizzazione che sostanza cioè il sapere veramente e il coinvolgere i consumatori non addetti ai lavori nella nei processi di produzione nel capire quanto questo sia importante anche per la loro salute anche per il loro benessere non è semplice ecco voi che sicuramente farete indagini di mercato che sicuramente investirete nella profilazione del consumatore mi piacerebbe sapere come lo vedete come si è evoluto il consumatore è diventato più responsabile ci sono fasce ovviamente immagino di sì di quelli più sensibili di quelli meno sensibili ma proprio per capire anche come poi costruire da parte delle aziende una comunicazione che vada incontro ai bisogni e anche a quello che citavo prima nell'Agenda 2030 a un consumo responsabile quindi il sapere che cosa che cosa si mangia come quando prendiamo le medicine guardiamo il bugiardino e cerchiamo di capire cosa ci stiamo ingoiando comincerei da te Nicola volentieri premetto che in questo caso porto quello che ho imparato dai miei colleghi del marketing che qui insegnano alla grande devo dire sì effettivamente le ricerche che abbiamo fatto e ne stiamo facendo sempre di più in quest'area dicono che il tema della sostenibilità per il consumatore è importantissimo quello che che è un po' invece direi strano bizzarro è che lo considerano un fattore igienico un fattore basico significa ci deve essere che cosa vuol dire ci deve essere sono disposto a investire due cose tempo e denaro quindi tempo perché devo capire che cosa che cos'è la sostenibilità di questo prodotto e quindi lo devi mettere su un'etichetta dove non c'è più spazio devi mettere sempre più informazioni e che tu cerchi fondamentalmente di sintetizzare attraverso molto spesso delle certificazioni usiamo delle certificazioni di terze parti in certi casi addirittura molti dei nostri nel confectioner moltissimi utilizzano verifiche di seconda parte quindi senza entrare nei dettagli cosa vuol dire già qua cambia però il consumatore si trova un logo un logo carino invece scritto che è sostenibile quindi prima cosa è il consumatore vuole investire questo tempo risposta del nostro marketing no non ci vuole investire vuole pagare anche qua non necessariamente meglio di no e quindi la situazione in cui ci troviamo è che c'è un bisogno sembra che sia diciamo basico deve esserci però non c'è la disponibilità a investirci in senso lato a 360 gradi da parte del consumatore e penso che in questo caso quello che sta succedendo sta sta aiutando molto a mettere un po' secondo me di chiarezza in questa veramente in questa foresta o selva oscura potrebbe la la legislazione europea su particolari temi come la due diligence temi come la EUDR temi sulla la legge sulla sulla deforestazione perché crea questo livello di noi lo chiamiamo level playing field cioè questo livello minimo comun denominatore per tutte le aziende che dà la garanzia al ovviamente al consumatore che certi minimi criteri sono implementati e allo stesso tempo dà la garanzia che tutte le aziende si riferiscono a un minimo un minimo set di criteri e che diciamo giochiamo sullo stesso campo e dà la garanzia al consumatore che tutto questo è stato messo in piedi garanzia ovviamente nei limiti delle verifiche che possono essere fatte però questo sicuramente siamo convinti che questo aiuterà a migliorare gli standard soprattutto nelle filiere agricole per noi tra l'altro che importiamo da molte filiere da molte parti del mondo ovviamente per noi è molto importante e sarà un fattore fondamentale perché in questo caso ci saranno due si creano due livelli è sei compliant sono più che compliant questo è quello che su cui stiamo lavorando su questi due livelli grazie il pomodoro com'è cioè già di per sé è un non so uno pensa che sia una cosa naturale la passata non è che ci faranno ci metteranno dentro chissà che quindi tutto questo valore perché poi la cosa importante credo che sia che le aziende siano convinte di fare dei processi sostenibili indipendentemente dal consumo cioè non voglio pensare che la sostenibilità sia solo uno strumento di marketing e non credo che lo sia e immagino che appunto le aziende le applicano le innovazioni applicano tutte le tecnologie e i sistemi di gestione che servono comunque a migliorare perché poi ci siamo resi conto che se la sostenibilità è vero che deve essere anche sociale ed economica porta dei vantaggi anche economici oggettivamente molto spesso però mi chiedevo appunto ci sono certi prodotti una volta parlavo con uno che produceva latte e gli ho detto come va il latte biologico non va bene perché l'immagine del latte è già di per sé di un prodotto naturale sano pulito bianco puro il fatto che ci sia l'aggiunta del biologico non paga tanto insomma non è che il consumatore sia poi così attratto o così come dire trovi così tanta differenza rispetto magari invece a una frutta una verdura che uno pensa che ci siano i trattamenti eccetera come va col pomodoro allora ci sono tanti elementi tanti spunti interessanti allora il pomodoro va bene perché per definizione è un prodotto che se guardiamo il tema dell'impatto ambientale quindi la famosa anche diciamo il famoso calcolo dei prodotti il pomodoro è un prodotto agricolo la trasformazione non è una trasformazione eccessivamente complicata quindi da un punto di vista di sostenibilità è un prodotto che si presta anche a fare comunicazione nel caso del latte che tu citi effettivamente il fatto che il latte venga visto come un prodotto sostenibile ci fa comprendere che forse non c'è così consapevolezza nel consumatore di cosa lo è cosa non lo è e dove sono gli impatti ambientali dei prodotti detto questo la difficoltà è riuscire ad arrivare al consumatore con elementi di sostanza un esempio giusto per capirci ma che voglio dire tutti sapete il tema della plastica che è un tema estremamente controverso la plastica ha un problema grosso di glittering diciamo di smaltimento ma di per sé da un punto di vista prettamente ambientale è un prodotto adesso non voglio usare termini ma è un buon prodotto rispetto ad altri perché ha delle prestazioni molto maggiori da un punto di vista ambientale effettivamente impatta meno quindi la difficoltà per le aziende secondo me sta proprio nel riuscire ad instaurare un livello di comunicazione sullo stesso piano col consumatore perché il percepito del consumatore non necessariamente è la realtà delle cose quindi è come effettivamente e qui secondo me le aziende rivestono un ruolo estremamente importante che è quello di riuscire a passare al consumatore dei messaggi veri e fare anche un po' attività di education quindi riuscire a far comprendere al consumatore gli sforzi che ci sono dietro di una filiera sostenibile e qui sposo il punto di vista di Nicola quanto il consumatore è disposto a pagare per questo sforzo è chiaro che il costo non lo deve sostenere il consumatore ma nel momento in cui si agisce su una filiera molto lunga e molto complessa il costo va diviso tra gli attori altrimenti non si riesce a portare a termine e la difficoltà sta proprio nel trovare il giusto livello di comunicazione perché le aziende tra il rischio greenwashing la tendenza al greenwashing quindi il non comunico per il rischio di greenwashing perché effettivamente la comunicazione ambientale di sostenibilità è un ambito estremamente scivoloso ci sono pochissime norme che la regolamentano quelle che ci sono come potrebbero essere le norme ISO sono veramente molto 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 generiche l'ISO 1421 dice tutto e niente e quindi ci sono stati tantissimi casi di sanzioni le aziende in questo sono spaventate e tendono quindi o a comunicare anche se non ne hanno i requisiti e quindi lì c'è il greenwashing oppure non comunicare per il rischio di dire una cosa che potrebbe essere contestata e andiamo nel greenwashing quindi il giusto equilibrio è complesso da trovare però credo che le aziende abbiano questa responsabilità cioè riuscire a trovare il giusto canale di comunicazione per arrivare anche a fare attività di education e noi è quello che cerchiamo di fare è chiaro che è complicato giungere a tutti i consumatori perché tutte le iniziative che noi abbiamo fatto che hanno un po' questa finalità riescono però a prendere una piccola fetta del consumatore perché se li vuoi prendere tutti li devi giocare sul packaging devi giocare sul prodotto lo spazio però non c'è le informazioni sono poche rimandi a siti web ma quasi nessuno ci va e quindi complicato Sergio vuoi così aiutarci visto che un'azienda come la Barilla che sulla comunicazione ha costruito veramente un modo di vivere non so come dire e quindi tante volte mi viene da dire vendiamo tanti sogni e forse troppa poca realtà però stiamo capendo che trasferire la realtà che pure è una realtà virtuosa non è così facile assolutamente difatti diciamo come giustamente diceva Laura il panorama è molto incerto a livello anche di direttive comunitarie che cosa è sostenibile cosa non lo è il greenwashing i regolamenti che tardano ad arrivare c'è molta incertezza sostanzialmente ma a prescindere da quello che è l'obbligatorietà e la mandatorietà delle informazioni che vanno veicolate siamo nell'epoca dell'infodemia un tweet su un social network può cambiare gli exit poll di una votazione politica le influenze si muovono con la velocità della luce con i social con i contenuti virtuali si comprano meno quotidiani si vede meno la televisione ci si informa da tantissime fonti sostanzialmente quindi in questo quadro bisogna avere le spalle forti per poter fare determinati vanti e se non le si riempiono di contenuti queste informazioni sono vuote e rischiano di essere un boomerang sostanzialmente quindi ora non voglio essere autocelebrativo per l'amor di dio diciamo riempirlo di contenuto è particolarmente complicato comunicarlo è ancora di più perché è tutto un lavoro appunto di filiera e di specializzazioni diverse di team multifunzionali questo progetto che vi ho presentato per esempio giusto per tenerlo come esempio è frutto comunque di un lavoro multifunzionale cioè noi all'interno di Barilla ci sono coinvolti gli acquisti il marketing il marketing deve sapere il contenuto di quello che va a narrare altrimenti rimane un bello slogan sostanzialmente quindi questi sforzi si ottengono solo se c'è lavoro di gruppo cooperazione sia all'interno di un'azienda stessa ma soprattutto coinvolgendo la filiera perché se no rimangono richieste faticose da portare avanti che non portano valore aggiunto alla filiera e appunto rimangono sogni e piuttosto cerchiamo di renderli concreti ecco certo un attimo finiamo il giro poi credo che riusciamo a magari avere qualche momento per le domande Manuel io invece volevo capire da voi l'innovazione di prodotto perché questa cosa del gluten free è una come dire come mi è venuto in mente giusto per capire cioè la risposta cioè il creare una filiera prima che si creasse poi un bisogno insomma voglio dire siete stati molto lungimiranti diciamo che sono tutte esigenze che sono che sono nate prima sono sempre state e sempre di più stanno venendo allo scoperto oggi il bello di essere in Martino Rossi è essere nel centro di tutta questa filiera il fatto di poter partire veramente dalla scelta varietale ossia di creare una nuova varietà botanica in maniera naturale e arrivare a un prodotto finito partendo dalla ricerca e sviluppo che non è il prodotto finito ma è la materia prima di partenza penso che sia qualcosa di unico oggi noi abbiamo questo bellissimo compito ma anche quello che mettiamo a servizio ai nostri clienti parlavamo appunto prima di Barilla carta immunobianco è basata sulla certificazione SCC Plus che si rifà al punto numero 12 degli STG noi senza che nessuno ciò chiedesse abbiamo fatto gli SCC Plus sul mais alimentare che chiaramente ha comportato di fatto la nascita di un nuovo prodotto il mais alimentare ed agricoltura sostenibile ma che allo stesso tempo ci ha dato anche il dovere di educare la filiera agricola perché abbiamo dovuto riscrivere completamente i disciplinari riscrivere di fatto tutto il trattamento che doveva essere fatto in campo per arrivare a ottenere questa certificazione chiaro che per noi è stato facile perché di fatto eravamo l'unico attore dalla A alla Z però di fatto ci ha veramente messo in condizione di lavorare con l'agricoltore oggi il gluten free è vero noi di fatto abbiamo convertito tutte le produzioni dagli anni 2000 quando non se ne parlava oggi si parla tantissimo del plant based che non è mondo vegano o mondo vegetale è proprio la proteina vegetale che è un'esigenza la carne non siamo in grado di è impossibile anche volendo anche il più ferroce carnivoro non può quindi di fatto dobbiamo veramente trovare nuove fonte nuove catene alimentari che siano sostenibili sostenibili per l'ambiente e per noi stessi un'altra cosa che ci tratta all'inizio è migliorare il nostro benessere noi anche lì come innovazione di prodotto noi cerchiamo di migliorare le etichette puliamo gli ingredienti tutta la nostra produzione è naturale non c'è nessun processo chimico sono tutti processi meccanici parlavi di glutine gli amidi gli amidi è un'estrazione chimica noi stiamo sviluppando farine che vanno a sostituire l'amido quindi che hanno tutte ripercussioni in sua salute non soltanto per un celiaco un diabetico ma per un insieme di alimentazioni quindi oggi veramente l'innovazione è quella che sta spingendo ma deve essere sempre collegata a una sostenibilità non a caso si parla di innovazione sostenibile deve abbracciare veramente tutta la filiera grazie allora adesso farei una domanda a Gabriele poi chiederei invece a Alex di aiutarmi così come la vede lui visto che comunque il suo osservatorio è molto vasto sì mi assumo le mie responsabilità no invece vorrei chiederti Gabriele se abbiamo parlato di formazione no? abbiamo parlato di modificare anche gli atteggiamenti i modi di pensare dei consumatori degli agricoltori degli industriali insomma di tutto di tutta la catena però a me torna sempre il problema che l'anello più debole sia quello dell'agricoltura allora voi avete parlato di non arare no? io ho lavorato vent'anni quarant'anni nell'agricoltura della regione Lombardia negli ultimi venti abbiamo cercato di convincere gli agricoltori a fare un'agricoltura conservativa progetti europei contributi nel PSR di tutto di più e poi alla fine questa cosa non va non va io continuo andare in giro vedo i campi arati mi si rivolta allo stomaco e però è così tutto quello che ci mettiamo dentro se ne va si ossida e se ne va in atmosfera con danni soprattutto per il suolo ma anche per l'atmosfera allora come si fa a diffondere certo non c'è una ricetta non sto chiedendo una ricetta credo che come si dicevano questi progetti che poi vengono condivisi comunque aiutano a copiarsi uno con l'altro perché gli agricoltori non lo dicono ma copiano il vicino questo è una cosa normale è un trucchetto che viene usato spesso però insomma voglio dire la cosa non può avere tempi troppo lunghi per cambiare perché di tempo non ce n'abbiamo più tanto che facciamo? è chiaro che aver la risposta a questa domanda sarebbe molto bello pensavo a quello che accennavi tu a formare i giovani almeno quelli sicuramente le strade sono quelle bisogna comunque continuare a lavorare per cercare di far nascere negli agricoltori questa sensibilità e alimentarla noi cerchiamo di farlo partendo dai giovani chiaro che l'agricoltura sappiamo che è anche un grosso problema di ricambio generazionale perché le aziende agricole in Italia sono guidate da giovani per una percentuale molto bassa e anche a livello europeo non è tanto più rosa le situazioni si parla del 12-13% più o meno mentre abbiamo la maggior parte sono condotte da over 60 quindi è un è un ambito in cui chiaramente c'è una certa componente anche di ricambio generazionale che nei prossimi anni potrà portare anche una certa spinta innovativa anche se in realtà non è così non è così non è così lineare l'equazione se è giovane è innovativo così come prima anche Alex diceva non è che se è tecnologico è sostenibile allo stesso modo anche nell'agricoltura funziona che non è che un'azienda che è condotta da un giovane è più sostenibile è in un certo senso magari più portato a un approccio più innovativo ma noi abbiamo fatto alcune ricerche sulla nostra base della community del nostro del nostro network abbiamo visto che non sempre c'è questa corrispondenza però quello che abbiamo notato è che quello che abbiamo scoperto anche da ricerche fatte anche con l'Università di Bologna è che effettivamente quello che funziona è quello cioè guardo quello che fa il vicino cioè l'agricoltore ha bisogno di vedere che una cosa funziona se l'agricoltore prova una cosa e vede che funziona allora pian pianino inizia ad acquisirla è chiaro che l'agricoltura ha dei tempi naturali un po' più distesi non possiamo pensare si parla molto nell'ambito del marketing il disruptive queste cose che nell'agricoltura funziona un po' meno perché tu pianti il grano e devi raccoglierlo poi dopo un po' per acquisire un'innovazione l'agricoltore ha bisogno di alcuni cicli produttivi che vuol dire alcuni anni e quindi per forza di cose l'agricoltore ha bisogno dei suoi tempi perché il campo ha bisogno dei suoi tempi però quello che abbiamo notato è che generalmente quando si acquisisce un'innovazione che ha dei risultati che funziona l'agricoltore poi la tiene e generalmente quello che abbiamo visto è che una volta che introduce un'innovazione è più portato a introdurre poi in un'altra e quindi banalmente partendo da utilizzare un software per la gestione delle attività di campo che è un proprio il primo step quello può portare poi dopo dire provo allora a mettere una centralina in campo e da lì pian pianino si va dietro quindi questa è una strada sicuramente e poi l'altra sì sicuramente è la formazione forse anche il fatto di avere delle aziende con cui ci si rapporta che ti aiutano a crescere in questo senso come è successo di qua insomma da tutte le parti diciamo dalle aziende che collaborano con i produttori noi utilizziamo spesso questo termine che è la co-innovazione cioè lavorare insieme agli agricoltori per questo anche tipo il progetto di cui parlavo prima sul carbon farming lo facciamo insieme a delle aziende vitivinicole proviamo insieme a loro tra l'altro abbiamo trovato le aziende che sono già molto proiettate in quell'ambito lì quindi in giro delle aziende che hanno questa sensibilità ci sono e bisogna fare in modo che anche le altre aziende vedano che ci sono queste aziende che vanno bene che funzionano bene e magari appunto ci si va dietro certo io volevo invece chiedere solo prima di chiudere e poi magari teniamo il tempo per qualche domanda a Giancarla questa esperienza voi avrete sicuramente altre esperienze con le filiere agroalimentari o forestali non so nei vostri progetti e mi chiedevo se c'è un effetto poi domino con le comunità che non sono perché l'aspetto sociale è molto importante specialmente nei paesi appunto chiamiamo in via di sviluppo che non so se si usa più ma insomma nei paesi più poveri e mi chiedevo se questo vedere delle comunità che con il vostro aiuto con l'aiuto delle aziende come dire fanno dei salti culturali con l'attenzione a non perdere la propria identità è come dire stimola i vicini in qualche modo a ragione almeno a ragionarci ecco a fare un pensiero rispetto per esempio al tema della dispersione scolastica piuttosto che anche al tema banalmente agricolo di come coltivare il cacao sì diciamo questo assolutamente prima non so chi diceva che si copiano l'un l'altro e anche in questo caso e anzi c'è voglia per delle altre comunità di implementare poi le stesse cose allora la cosa importante è che si deve vedere il successo e che quindi se funziona è tutto lì perché tu puoi innovare quanto ti pare ma se poi la situazione non cambia quindi nel momento in cui si vede che funziona la voglia è proprio quella di migliorarsi dal canto nostro invece che per noi è assolutamente importante è quello di dire finalmente possiamo lasciare la comunità perché sono indipendenti e quindi riescono anzi a passare il messaggio ad altri quindi questo è fondamentale sì Eccoti no volevo capire dall'osservatorio diciamo così anche di un ricercatore di uno studioso così uno sguardo verso il futuro io sono sempre ottimista di natura e quindi lo sono anche se come dire il tutto non è proprio come dire ottimo ottimo volevo capire appunto anche rispetto alle tue esperienze anche qui di comunità poi di fatto di realtà rurali o meno insomma se il driver della sostenibilità è veramente sta veramente entrando non solo appunto ripeto tra virgolette nel marketing ma sta entrando nella cultura delle persone di chi lavora a contatto soprattutto diciamo con l'ambiente naturale nel nostro caso Grazie ti ringrazio per la fiducia e mi dispiace che forse vi pentirete di avermi invitato alla fine a valle diciamo di questi conti però diciamo accolgo il tuo invito e ti ringrazio come avete visto è stato tutto molto interessante e per me per l'informazione professionale tutto questo è un dato che ci racconta la complessità del cambiamento quindi abbiamo parlato di sostenibilità parlando di tante cose apparentemente distanti tra di loro ma che in realtà vanno a confluire in un quadro appunto di evolutivo questa è la parola che utilizzerei che necessariamente è un quadro di complessità allora per rendere il gioco un po' più difficile in tempo dove poi ogni soluzione quindi anche da quelle che abbiamo visto e sono tutte meritevoli credo davvero anche interessanti tuttavia se considerate ciascuna per ognuna ogni soluzione diventa una semplificazione vista da sola invece noi io partirei dall'assunto che l'unico modo per affrontare la complessità sia quello di abbracciare la complessità e quindi adesso è lì che bisogna porsi un po' di problemi cioè dove avviene questo raccordo allora ci sono già delle diciamo dei centri istituzionalizzati c'è tutto il sistema anche europeo dell'ACIS non so se avete presente che è un po' il sistema proprio di che si occupa del sistema conoscenza e innovazione però io davvero per non annoiare il pubblico vorrei fare una proprio una riflessione di natura un po' più personale da un lato e empirica alla fine noi e tornare all'inizio se noi abbiamo parlato di tecnologie 4.0 della dialettica positivo negativo cioè io credo che quello che vada un po' il warning che vorrei alzare è di stare attenti quindi a tecnologie quindi innovazioni modelli pensati lontani dai territori noi abbiamo vissuto già un po' questo quest'epoca con l'ideologia del 4.0 questa è stata una parola una buzzwords degli ultimi anni che sostanzialmente in Italia che cosa è stato? è stata la traduzione di qualcosa fatto in Germania poi 4.0 quel 4 sta per quarta rivoluzione industriale vi ricordate si racconta sempre questa bella storia diciamo la prima rivoluzione industriale c'è stato i motori a vapore che poi dopo l'elettricità l'informatica eccetera però vedete in queste rivoluzioni industriali non c'era solo la tecnologia c'era il cambiamento di un cambiamento di un modello sociale invece questo 4.0 non è una quarta rivoluzione industriale perché non si è fatto non altro che accocchiare diciamo tecnologie già esistenti insomma ma da anni l'intelligenza artificiale l'ho studiata negli anni 90 la prima fabbrica robotizzata l'hanno messa a Melfi uno dei posti proprio più sfigati nel mondo nell'80 e quindi questo proposto come rivoluzione senza pensare a quale potesse essere il paradigma sociale di cambiamento e quindi io credo che in generale questa sia stata una partita persa ma una partita che io stesso ho perso da dentro con il 2.0 pensiamo ad internet vi ricordate McLuhan che era questo scienziato poeta diceva il mezzo è il messaggio questo è un tormentone poco capito ma molto usato e sostanzialmente racconta che la tecnologia a prescindere dai contenuti essa stessa è un messaggio la società se arriva a un punto nel quale esprime internet sta esprimendo un messaggio e quindi internet tutti lo conoscete che cos'è? è un messaggio di cooperazione di solidarietà di rete e noi l'abbiamo trasformato nel più grande posto dove vendere aspirapolveri alle persone ok? è arrivato nel posto per fregarti puntualmente per venderti un libro portarti il panino a casa e quindi praticamente da un punto di vista evolutivo abbiamo perso una chance ecco noi adesso abbiamo una grande chance che è data da queste tecnologie 4.0 l'intelligenza artificiale la robotica il messaggio qual è? il messaggio forse è quello di dirci attenzione ci sono problemi di natura planetaria che non hanno più bisogno dei leader hanno bisogno di tutta l'intelligenza collettiva qualcuno direbbe connettiva cioè ci vuole uno strumento che amplifichi con un senso in più che scusatemi non può essere quello del marketing è una cosa oltre che ci aiuti a far fronte di questi problemi che hanno una natura che è molto più complessa di quella che può esprimere un dipartimento di cerchio e sviluppo un dipartimento di marketing un dipartimento di non so che c'è bisogno di una portata co qualcuno ha detto anzi in tutti i vostri progetti c'è una matrice di cooperazione dove società territori biodiversità intelligenze biologiche animali vegetali siano tutti compresi in questo processo cooperativo una mia amica filosofa dice simbiontico lei parla di simpoetica cioè di una poetica quindi una produzione che tenga dentro tutte queste cose capisco dice vabbè queste sono le parole vuote che dicono i professori noi qua facciamo azienda facci capire che dobbiamo fare e allora che dobbiamo fare possiamo fare questo dobbiamo forse lavorare a ricostruire dei rapporti di fiducia con la società e con i consumatori questa parola mi fa un po' paura perché già questa riduce la complessità degli esseri umani e quindi già per me è una parola che inizierei a togliere no? così come inizierei a togliere la parola target nei progetti di sostenibilità cioè inizierei realmente a pensare a dei sistemi cooperativi lo so che sono parole antipatiche per chi fa azienda consentimile mezz'oretta poi non ci vediamo più dico però è capito cioè noi parlavamo di society con il mio gruppo di ricerca insomma per definire una parola che andasse oltre il marketing e che vedesse quindi le imprese come attori sociali che si è assumesso diciamo delle responsabilità nella società allora in quest'ottica secondo me una cosa operativa è quella di andare a restabili dei legami di fiducia ok dice ancora una volta un'altra parola da antropologo sociologo noioso andiamo a capire come si può fare io penso che credo che il noi quello che ha bisogno la società è quella di avere informazioni conoscenza allora la cosa importante è che le imprese sempre di più dovrebbero condividere conoscenza quindi abbattere il muro di quello che è dentro e quello che è fuori attraverso i dati ma non solo anche attraverso pratiche condivise e poi essere pronti perché questo è quello che oggi forse il mercato scusatemi quest'altra brutta parola ci chiede e abbiamo tante possibilità quarkode eccetera eccetera ma non solo questo però siamo attenti perché con buona pace diciamo della nostra età che magari non usiamo i quarkode ci scocciamo le domande che a breve ci faranno che vi faranno sono altre e hanno a che fare con delle responsabilità importanti che dovete prendervi prima voi più che noi e hanno a che fare con il fatto che noi abbiamo un sistema cibo chiuso dentro una filiera della GDO che su 100 euro di spesa dà 2 euro a chi produce è 2,7 massimo a chi trasforma siamo dentro in un sistema cibo dove il 70% del cibo prodotto viene buttato e si parla del problema che non riusciremo a sfamare 10 miliardi di persone quindi la carne sintetica ma io direi alla tecnologia all'innovazione poniamo le domande giuste è giusto che tutti questi prodotti come fate debbano fare questi viaggi continui e quindi a fronte anche di operazioni di sostenibilità su un lato su un altro lato poi magari hanno un impatto di un certo tipo allora io credo che sono queste le domande che a breve i ragazzi che oggi imbrattano i musei vi faranno e questi ragazzi sono quelli che poi saranno i vostri consumatori sono quelli che saranno il vostro target oppure saranno i consumatori il target di qualcosa di emergente che a noi oggi sembra marginale e che un domani potrebbe in qualche modo diventare invece leader di mercato scusate mi imbarazzo dire queste parole questo è per dire che dentro questa risignificazione proprio dell'impresa all'interno di una società quindi non solo di un mercato dovete capire a che ruolo volete avere per il futuro dico voi imprese abbiamo parlato di cose ultra importanti b noi tutti dovremmo chiederci quale domanda è giusto porre alle tecnologie facendo le giuste domande e chiedere all'intelligenza artificiale non di portarci il panino un quarto d'ora prima a casa magari sfruttando uno sulla bicicletta che se muore non gliene fega niente a nessuno ma portarci risoluzioni a problemi di natura planetaria ma anche poi iper locale questa è la mia c'era una domanda che freme adesso in allora sono un po' intimidita da questa platea per cui non vorrei dire cose sbagliate mi aggancio a quello che ha detto il professore le aziende hanno una responsabilità su tutti gli stakeholder che siano i dipendenti che siano i consumatori io lavoro per E-World che è l'app ufficiale delle Nazioni Unite e facciamo con la gamification quindi senza abbassare la soglia d'attenzione educazione e siamo data driven quindi calcoliamo con gli algoritmi approvati da United Nations io ho cercato di mettervi in contatto con tutte le vostre aziende e non ci sono riuscita e sì che sono un martello quindi la domanda è ci sono delle soluzioni per ingaggiare Lavazza l'ha fatto Conad l'ha fatto hanno avuto il 30% in più di download dell'app di loyalty e io l'ho mandato questi dati eh dati alla mano quindi le persone che vogliono fare la rivoluzione mondiale quindi far capire un tema complesso come la sostenibilità e far cambiare un mindset che serve poi ai contadini per cambiare mentalità eccetera eccetera perché di sostenibilità parlano tutti ma nessuno sa niente con dei dati alla mano io vorrei sapere a chi mi devo rivolgere perché come dicevamo prima il progetto del Basilico ha preso tutti quanti gli attori quindi una povera crista che deve mettervi in conto e mettersi in contatto con voi ma che deve fare? ci risponderete ci risponderete nell'anno io perché ne dobbiamo lasciare nella sala vi ringrazio tutti grazie è stato tutto molto interessante grazie infinite ai nostri relatori e a tutti voi che ci avete ascoltato alla prossima grazie